E ci ritroviamo insieme per dare il via al primo collegamento di oggi che come vi anticipavo sarà con Claudia Conte, conduttrice, scrittrice e giornalista che oggi tra l'altro ci aiuterà a fare anche due riflessioni sulla giornata mondiale dedicata alla libertà di stampa che appunto si celebra il 3 maggio. Buongiorno Claudia, ben trovata! Buongiorno a tutti, che piacere essere e tornare su Padre Pio TV con te, Tony e tutti gli amici. Piacere è reciproco, sei una grande amica di Padre Pio TV e quindi ecco, è come dire, è sempre bello quando gli amici si ritrovano e si rincontrano. Tra l'altro oggi intorno ad un argomento importante come quello della giornata mondiale della libertà di stampa, di cui avremo modo di fare due chiacchiere. Subito dopo una scheda che ci parla appunto di questa importante giornata, ma poi approfitteremo della tua presenza oggi, della tua disponibilità oggi, anche per parlare del tuo nuovo romanzo, un romanzo che è incentrato sul tema del volontariato, per cui ovviamente è un tema a noi molto caro e andremo a scoprire come tu lo hai sviluppato attraverso la trama dei suoi protagonisti. Per cui, Claudia, ti chiedo di seguire insieme a me e a tutti i nostri amici telespettatori la scheda di storia che ci parla appunto della giornata di oggi. 3 maggio, World Press Freedom Day, giornata della libertà di stampa. Voluta dall'UNESCO, nasce per ricordare ai governi la necessità di rispettare il loro impegno per la libertà di stampa. È anche un giorno della memoria per tanti giornalisti che hanno perso la vita facendo il loro lavoro, spesso nei luoghi più pericolosi del mondo, alla ricerca delle notizie. Reporter Saint Frontier, che valuta annualmente la situazione in 180 paesi e territori, denuncia, la pratica del giornalismo, il principale vaccino contro il virus della disinformazione, è gravemente ostacolata in 73 stati e limitata in altri 59, ovvero in tre quarti dei paesi valutati. Numeri che corrispondono ai paesi classificati in rosso o nero sulla mappa mondiale, in una situazione difficile o anche molto grave. Mentre i governi autoritari di tutto il mondo approfittano di emergenze come la pandemia per conculcare la libertà di stampa, il barometro Edelman Trust rivela una preoccupante diffidenza dell'opinione pubblica nei confronti dei giornalisti corrisponde al 60% degli intervistati in 28 paesi. Si ritiene che i giornalisti stiano deliberatamente cercando di fuorviare l'opinione pubblica diffondendo informazioni che sanno non essere vere. Secondo il segretario generale di Reporter Saint Frontier, Christophe Deloitte, il giornalismo è invece il miglior vaccino contro la manipolazione dei potenti. Purtroppo la sua produzione e distribuzione sono troppo spesso bloccate da fattori politici, economici e tecnologici e talvolta culturali. Di fronte alla viralità della disinformazione attraverso i confini su piattaforme digitali e sui social network, il giornalismo è il principale garante affinché il dibattito pubblico si basi su una diversità di opinioni fondate su fatti accertati. Eccoci ritornati insieme. Claudia, di giornate mondiali ce ne sono tantissime, molte delle quali appunto sono state istituite proprio dall'UNESCO, ma quella sulla libertà di stampa, come abbiamo ascoltato dalla voce narrante nel servizio a cura di Maria Pia Picciafuoco, è una di quelle probabilmente più importanti perché la libertà di stampa è un po' la cartina di tornasole dello stato di salute della democrazia in qualsiasi paese del mondo. Un mestiere quindi difficile, carico di responsabilità, quello del giornalista, che evidentemente deve essere una vocazione, non può essere fatto così, come dire, a cuor leggero, sei d'accordo? Allora, premesso che secondo me tutti i mestieri sono delle vocazioni, perché sono un po' delle chiamate che sentiamo e insomma per noi credenti c'è anche qualcosa in più, il senso di responsabilità, di portare alla luce le proprie capacità per fare del bene anche agli altri. Quella del giornalista sicuramente è carica di responsabilità, l'articolo 21 della nostra Costituzione, tutela la libertà di stampa, la libertà di stampa che è pilastro, baluardo della democrazia, come dicevi anche tu. Sicuramente ecco, in questa giornata ricordiamo tutti i colleghi giornalisti che hanno perso la vita, anche raccontando, cercando la verità, che il mestiere principale del giornalista è cercare la verità, non cercare lo share a tutti i costi e questo purtroppo è il rischio della nostra professione, soprattutto di chi fa televisione, è quello di cercare lo share a tutti i costi e quindi affrontare anche dei temi che magari o non hanno grande importanza, vediamo adesso tutta la polemica fascismo, antifascismo, mi sembra che si parli a volte del nulla, oppure dare attenzione a personaggi particolari, divisivi, per creare per forza l'audience, perché la gente pensano che la gente voglia vedere il litigio a tutti i costi. Io invece credo che un bravo giornalista non cerchi lo share a tutti i costi, come dice anche Papa Francesco, i giornalisti devono pensare ai contenuti prima che allo share, quello è una conseguenza e quindi questo è un tema importante. Poi invece tanti giornalisti che sono arrestati ingiustamente, mi riferisco alla Turchia che secondo Amnesty International è il primo paese in cui i giornalisti vengono arrestati senza ragione, senza processo e questo è ingiustificato, è gravissimo e questo avviene in Iran, avviene in Afghanistan, come ha detto il vostro bellissimo servizio, sono 70 i paesi in cui c'è questo grave attentato alla libertà di stampa. Libertà di stampa che sicuramente nei paesi occidentali è garantita, la nostra Costituzione la garantisce, seppur con dei limiti, Toni, perché a tutto c'è un limite. La libertà di stampa non può significare libertà di rovinare la vita ingiustamente a delle persone per motivi che magari non sono della ricerca della verità ma sono ben altri. Mi riferisco al caso Dossier che sicuramente vi ricorderete, tantissimi politici ma anche persone normali, anche imprenditori si sono ritrovati sul giornale senza saperlo perché dei pubblici ufficiali, dei funzionari di Stato quindi pagati dagli italiani hanno fatto delle cose illegali, cioè hanno avuto accesso illegalmente a banche dati riservate usate dall'antimafia per infangare delle persone e questo non è giornalismo, non è correttezza ma è un grave scandalo, è un attentato anche questo alla democrazia. Quindi la libertà di stampa sì, ma con i limiti sanciti tra l'altro dall'articolo 21 della Costituzione, perché ci sono dei limiti, Toni, no? Assolutamente sì. Ecco, anche per questo parlavamo di importanza di questo mestiere, della vocazione, della responsabilità nel farlo nella maniera giusta perché altrimenti anche la libertà di stampa può diventare un boomerang. A dimostrazione di quanto però ci siano tantissimi professionisti che fanno questo mestiere con grande impegno, passione, determinazione, ci sono anche le vittime appunto del giornalismo che per tenere alti i valori di cui stiamo parlando appunto hanno messo a repentaglio la propria vita, molte volte perdendola. Tra i paesi in cui... D'altro mi sembra che appunto anche recentemente l'UNESCO abbia dichiarato i giornalisti palestinesi come meritori di un particolare riconoscimento perché hanno perso la vita nel gravissimo contesto adesso di guerra nella striscia di Gaza. Assolutamente sì. E tra i paesi in cui purtroppo c'è ancora la guerra e la libertà di stampa viene quotidianamente colpita. Oggi c'è anche la Russia di Putin che più di un anno fa ormai ha mosso guerra contro l'Ucraina. Ecco, come lo vedi lo scenario internazionale a più di un anno dalla guerra in Ucraina e con le tensioni ancora forti che stanno animando invece i territori della Terra Santa? Innanzitutto, come dice Papa Francesco, viviamo nella terza guerra mondiale a pezzetti ci sono 59 guerre nel mondo e questa cosa è raccapricciante pensare che l'umanità è così piena di odio di violenza che il tempo passa ma ancora usiamo questo strumento, la guerra, per cosa poi? Per confini territoriali, per spartirci un metro in più, un metro in meno di territorio perché di questo parliamo. Perché in Russia il Donbass, questa parte di territorio che secondo la Russia ha più cultura russa e quindi deve essere annessa alla Russia, la Russia che è imperialista e quindi ha questa volontà di dominio. Dall'altra parte c'è l'Ucraina che rivendica sempre la sua libertà, la sua democrazia. Giustamente noi dobbiamo stare ovviamente dalla parte della tutela dei paesi democratici e quindi sicuramente non possiamo non stare accanto al popolo ucraino che sta lottando per la libertà. Però io trovo inaccettabile che ancora oggi si facciano guerre e a morire poi siano i civili, siano i bambini. Io vado spesso, sono stata diverse volte in Ucraina, sia per fini giornalistici, quindi per documentare le drammatiche conseguenze della guerra, anche in termini proprio di crisi umanitaria, perché le guerre portano purtroppo problemi economici, un'inflazione altissima, persone che perdono il lavoro, uomini che perdono la vita e quindi lasciano una moglie con dei figli. Sono problemi molto seri, molto gravi. Non hanno neanche il cibo tante persone, non hanno le coperte. C'è una crisi economica dovuta alla guerra gravissima, perché la guerra non porta soltanto vittime, persone che perdono la vita, che muoiono, quindi il sangue, ma purtroppo sono anche danni economici. E' un paese difficile che si risollevi, cioè è veramente difficile oltre pensare che è un paese in Ucraina che si sta spopolando completamente. Arrivando invece alla guerra in Medio Oriente, è drammatica la situazione in Gaza, 30 mila morti. Anche in questo caso c'è Hamas che sono terroristi. Purtroppo, vedete, nonostante Netanyahu abbia sicuramente avuto una reazione sproporzionata rispetto all'attentato del 7 ottobre, però bisogna fare delle specifiche su questo. Hamas sono dei terroristi che hanno attaccato e hanno ucciso persone innocenti che stavano semplicemente ad una festa, mi riferisco alla nuova festa, piuttosto che nei loro kibbutz. Sono arrivate e hanno ucciso queste persone esclusivamente perché sono ebree. Quindi si tratta di antisemitismo, antisionismo e la risposta di Netanyahu è stata assolutamente sproporzionata perché 30 mila morti, di cui buona parte, sicuramente tanti terroristi, tante persone violente e con quest'odio verso Israele. Loro non riconoscono lo stato di Israele, il diritto di esistere, questo non è accettabile. Però ovviamente bisogna tutelare, le vite umanitarie, quindi corridoi umanitari e questo crea spaccature inevitabilmente. Ora, non si riesce ancora in questo caso ad arrivare ad un accordo perché i terroristi vogliono sempre di più. Anche adesso l'ultimo accordo in cui c'era la previsione di restituire gli ostaggi alle proprie famiglie. Anche questo, pensiamo che dal 7 ottobre ci sono ostaggi, persone che, innocenti, che sono tenute in condizioni gravissime in dei tunnel schiave dei terroristi. E questo speriamo che si risolva più presto. È proprio di stanotte la notizia della morte di uno dei 33 superstiti ostaggi. E quindi questo accordo potrebbe prevedere la restituzione dei 32 ostaggi in cambio di 40 giorni di tregua. Che 40 giorni di tregua sono importanti. Importantissimi. Perché dai la possibilità di curare tante persone. Importantissimi. Noi ce lo auguriamo assolutamente. E tra quei tanti civili, come abbiamo detto, ci sono anche i giornalisti a cui oggi va un applauso sentito e sincero nella giornata mondiale della libertà di stampa. Claudia, noi ora ci fermiamo soltanto per qualche istante, e poi ritorniamo con te a parlare di valori importanti come quello del volontariato che è il cardine su cui si poggia il tuo nuovo romanzo. A tra pochissimo. Ritorniamo in diretta con la nostra amica conduttrice, scrittrice, giornalista Claudia Conte. Ritorniamo a parlare di valori che impreziosiscono la nostra esistenza. Claudia lì condivide con noi anche attraverso i suoi romanzi. È uscito da pochissimo la voce di Iside, che vediamo a tutto schermo con la sua copertina così evocativa. Per cui, Claudia, ti chiederei subito di cosa parla questo libro. Allora, questo libro che vedete parla di disagio giovanile. Ecco, quello che mi premeva fare è raccontare, indagare il disagio, il malessere che prova una generazione. Quindi la voce di Iside è un grido rimasto in gola per tanto tempo. Un tempo caratterizzato da inquietudini che spesso si tramutano in violenza. Allora sono gravissimi gli episodi di stupri di gruppo. Ricordiamo tutti Caivano, gli stupri di Palermo. Ma ci sono tante baby gang di origine anche sudamericana a Milano. Ma purtroppo la violenza permea nella vita di tanti giovani, anche nei manifestanti. Vediamo, manifestare è un qualcosa di bello, di importante, perché significa cittadinanza attiva. Ma bisogna rispettare delle regole base di convivenza civile, intollerabile, insulti alle forze dell'ordine, piuttosto che antisemitismo, atti gravi di antisemitismo. Io volevo indagare questa violenza da dove deriva attraverso una storia che racconta proprio del disagio di alcuni ragazzi. In particolare la protagonista, Iside, che è una diciottenne che dopo la pandemia si è chiusa nella sua cameretta in un mutismo impermeabile alle emozioni. Un giorno assiste ad un grave episodio di violenza, di bullismo. rimane inerme a questo episodio e da lì però riflette e quindi decide di prendere in mano la sua vita, di affrontare le emozioni, perché purtroppo essere impermeabile alle emozioni e non conoscerle, rifiutarle, significa anche poi non avere la forza di reagire. Quindi lei se non avesse conosciuto il dolore, non avrebbe conosciuto il coraggio, se non avesse conosciuto la paura, non avrebbe avuto la forza di reagire, di indagare anche su cosa volesse fare da grande, ad esempio. Scopre il volontariato, che è un'esperienza che cambia la vita. E tu lo sai bene, Tony. È vero, lo sappiamo bene entrambi, perché nel nostro tempo libero non manca la voglia di mettersi in gioco e di mettersi a disposizione degli altri, quindi il volontariato come antidoto alla violenza. Esatto, il volontariato è un antidoto sociale, che secondo me dovrebbe essere inserito proprio nelle scuole, come un'attività didattica, importante, perché poi ci sono tanti modi di fare i volontariati. Che cos'è il volontariato? Si può scegliere di andare, come nel caso di Iside, in una casa famiglia, in cui vivono donne con bambini, donne profughe di guerra, che vengono dall'Ucraina, parlavamo prima di guerra in Ucraina, ma anche dall'Africa, perché in Africa ci sono tantissimi conflitti e quindi tante persone che raggiungono anche il nostro paese in cerca di una nuova vita. Quindi ci sono tanti modi di fare il volontariato. Andare anche a fare chi ama l'ambiente, per esempio, il tema dell'ambiente. Si può andare con le gambiente e partecipare alla raccolta dei rifiuti. Si può andare negli ospedali a trovare i bambini oncologici. Per esempio una bellissima realtà è quella di Peter Pan Onlus, di Terza Stella, che ospita i bambini oncologici ucraini. Ci sono i centri antiviolenza, in cui ci sono tante donne che sono state costrette a scappare, a denunciare i mariti violenti che vivono in queste case con i loro bambini, dopo aver subito gravi violenze fisiche, psicologiche. Quindi fare il volontariato è sicuramente fare del bene agli altri, a persone che soffrono, ma anche aiutare se stessi. Perché nel caso di Iside lei si è resa conto, vedendo quella che è la vera sofferenza che c'è nel mondo, che i suoi non erano problemi gravi, problemi reali, ma era tutto molto superfluo. Quindi conoscendo i veri problemi capisci che quello che ti sembra grave in realtà non lo è. Quindi sviluppi anche una forma di resilienza, apprezzi di più la fortuna che hai nella vita, banalmente di essere in salute, di vivere in un paese democratico in cui i diritti sono rispettati, di avere una famiglia. Ognuno poi sa quali sono le sue fortune nel profondo del cuore. Mentre parlavi riflettevo sul fatto che poi il volontariato è un po' come quando doniamo il sangue. Si dice che donare il sangue fa bene a chi lo riceve, ma anche a chi lo dà. Per il volontariato è la stessa cosa. Donare un po' del nostro tempo agli altri alla fine fa bene anche a noi. Mi fa piacere che hai aperto anche il tema della donazione di sangue, perché lo spirito è esattamente quello. Tra l'altro io faccio parte dei Donatori Nati, che è l'associazione dei donatori di sangue della Polizia di Stato. Anzi, invito tutti a organizzare una propria donazione, perché è un momento bellissimo. Con un piccolo gesto puoi salvare una vita. Toni, ma quanto è grande questa cosa? Non ci rendiamo conto. Con cinque minuti possiamo salvare una vita. Dovremmo fare tutti. È davvero un'esperienza straordinaria, per cui invitiamo tutti quelli che possono farlo a donare anche il sangue. Claudio, il tempo purtroppo è tiranno. Stiamo arrivando ai saluti finali. In conclusione però mi faceva piacere ricordare che nel libro ad impreziosire queste pagine già belle e importanti c'è anche una prefazione d'eccezione scritta da Maurizio De Giovanni. Sì, certo. Maurizio De Giovanni è un grande maestro. Ovviamente lo ricordiamo tutti. Sono tutti i bastardi di Pizzo Falcone, ma tante sono le sue opere. Lui è molto prolifico. Quindi avere il valore delle sue parole ad introdurmi, insieme a quelle anche di Francesco Rocca. Ha avuto una grandissima esperienza come presidente della Croce Rossa. e quindi volontariato è la sua vita, è un maestro anche lui, è stato importante. Quindi avere delle guide anche per noi giovani, io mi ci metto ancora dentro, siamo ancora giovani, Tony. e quindi poter contare anche su delle figure che ci hanno ispirato in qualche modo, no? Vero. I giovani anche di questo hanno bisogno. Nel libro se ne parla tanto dell'importanza delle guide. di avere dei punti di riferimento e che siano positivi. Quindi io dico, basta influencer negativi, trapper che parlano accuse sessiste, che strappano le foto, che le bruciano, che insomma... Diffondiamo il bello, diffondiamo il bello, condividiamolo. È quello che cerchiamo di fare ogni giorno su Padre Pio TV e stamattina... Esatto. E anche stamattina ci siamo riusciti, grazie al tuo bellissimo intervento. Quindi non ci resta che invitarvi tutti a leggere la voce di Isite, il nuovo romanzo di Claudia Conte e a seguirla perché è una persona davvero che ci ispira a fare del bene. Grazie Claudia, speriamo di ritrovarti. Grazie Tony, tu sei oltre un grande amico, ricorderò sempre tutte le nostre visite nel santuario di Padre Pio, ma anche a San Michele. Questi momenti a me danno la carica per affrontare poi tante sfide anche di volontariato quotidiane, le nostre battaglie quotidiane. Io vengo a prendere la forza e l'energia proprio a San Giovanni Rotondo. Mi hai sbloccato un ricordo, l'ultima volta che sei stata a San Giovanni Rotondo eravamo per caso in sacrestia con i tuoi genitori e in quel momento passò la salma di San Pio, portata appunto, trasferita per delle operazioni che andavano fatte e quindi per noi fu un bellissimo segno. Mamma mia, sì 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 sì, mi emoziono soltanto a pensarci, non vedo l'ora di tornare. Molto bene, allora ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, per ora ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e buon lavoro, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie Tony. E noi diamo la linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.